Uno sciopero di 24 ore per i ferro-tranvieri, l'UGL lo indice per il 6 luglio, tutto questo riporta ai contratti di armonizzazione. Sì, noi il 26 ottobre non abbiamo firmato il contratto di secondo livello per ovvi motivi, perché ha prodotto discriminazioni addirittura tra lavoratori, e sempre con la premessa del Presidente che tutti mettevano tutto, nel senso che tutti quanti facevano sacrifici, invece si è riversato soltanto sul personale viaggiante, sul personale e addirittura sul personale viaggiante ancora di più. Mentre nelle stanze dei bottoni gli spieghi continuano, come la nomina del quinto consigliere d'amministrazione, per due anni la consulenza legale esterna, nonostante tutto che in azienda già sono presente quelle figure, la nomina dei direttori, ex direttori generali e presidenti, tutti quanti rimasti in azienda, da qua a togliere soldi nelle tasche dei lavoratori e dopo nelle stanze dei bottoni, ripeto, degli spieghi continuano, noi a questi giochi non ci stiamo. Noi ci aspettiamo che l'azienda, in qualche modo, come c'è stato un tavolo romano e l'azienda aveva promesso, in qualche modo, di riaprire e vedere alcuni punti che non andavano, ma ad oggi non abbiamo visto nulla. Quali saranno le fasce garantite domani? Sono 5.30, 8.30 e 13.16.